Il Natale è un mistero ed è nello stesso tempo una chiamata. È un mistero perché si tratta di entrare nella scelta di un Dio che si fa bambino, che lascia il calduccio del cielo per condividere in tutto e per tutto la nostra condizione umana, una scelta quella di Dio dettata unicamente dall'amore. Dio si fa uomo perché ci ama. Anche nella nostra esperienza umana quando amiamo una persona avvertiamo il desiderio proprio di starle accanto, di condividere tutto. Bene, ad un certo punto talmente grande è l'amore di Dio per noi da divenire proprio uno di noi. Ma il Natale è anche una chiamata, un impegno. Siamo chiamati a portare a tutti l'amore di Dio, a cercare e ad amare gli altri così come Dio ha cercato e amato noi. L'impegno del Natale è quello di portare a tutti i nostri fratelli l'abbraccio di Dio. Un abbraccio ci fa sentire vivi, ci fa sentire sostenuti. Ecco io auguro a tutti di sentire forte l'amore di Dio e di prenderci cura di coloro che ci vivono accanto affinché nessuno possa sentirsi solo.